Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Oggi ci addentriamo nel territorio più sinistro e inquietante del mondo dei social media. Quello in cui possono diventare incubatrici di ossessioni, minacce, vendette e persino portare alla perdita del contatto con la realtà. Mike Bukhari nasce l'11 maggio 1999 negli Stati Uniti ma cresce a Stoke-on-Trent, nella contea dello Staffordshire, nel Regno Unito. Suo padre si chiama Ali Raza, mentre sua madre Ansreen Bukhari, mentre suo fratello si chiama Arman. Non sono noti molti dettagli riguardo all'infanzia di Mike. Come vi ho accennato, nasce negli Stati Uniti ma quando ha soltanto due anni la sua famiglia decide di trasferirsi. In un primo periodo si sposta in Pakistan e poi a Stoke, nel Regno Unito, dove era cresciuta anche sua madre Ansreen. Il caso di Mike quindi si svolge a Stoke, dove la ragazza frequenta la scuola superiore. Consegue il diploma e poi, al college, sceglie di studiare moda, un settore che rappresenta una sua grande passione. Prosegue il percorso di studi all'Università di Manchester, dove stringe molte amicizie. Insomma, Mike conduce una vita normale, si diverte, partecipa alle feste accademiche, ma resta concentrata sui suoi obiettivi. Studia duramente perché vuole avere successo nella vita. Parallelamente all'Università, Mike coltiva un'altra ambizione, quella di diventare un influencer con tanto seguito. Così nel 2019 crea un account su TikTok. Comincia a pubblicare video di make-up, mostra i vestiti che indossa, ma posta anche svariati contenuti lip-sync o in cui balla. La ragazza prende sul serio il percorso legato all'affermazione sui social media. Infatti apre pure un canale YouTube, dove pubblica dei vlog. Col tempo, Mike percepisce che questo sogno di diventare una nota influencer non è così fuori dalla sua portata. Di conseguenza inizia a essere sempre più attiva su TikTok, la piattaforma su cui ottiene maggiori risultati. Sui social, la ragazza trasmette l'idea di condurre una vita scandita dal lusso. Adora pubblicare video in cui mostra i numerosissimi abiti che acquista e le infinite paie di scarpe da ginnastica che appaiono sulle mensole della sua camera da letto. I contenuti di Mike la dipingono come una vera influencer dalla ricchezza invidiabile. E lei li posta sui profili TikTok, YouTube e anche Instagram, promuovendoli continuamente. In sostanza dedica tutto il suo tempo ai social media e già alla fine del 2019 i suoi follower su TikTok ammonteranno a decine di migliaia. Mike vede che i suoi sforzi la stanno ripagando e siccome sta avendo successo le aziende la notano e la contattano per proporle di sponsorizzare i loro prodotti. Mike viene omaggiata di vari articoli da parte dei brand che collaborano con lei e viene invitata agli eventi dedicati agli influencer. Di conseguenza inizia a viaggiare per tutto il paese. A questo punto i suoi video su TikTok raggiungono una media di 100.000 visualizzazioni e le aziende allora le inviano sempre più prodotti sperando che li provi e ne parli sui suoi social. Viene anche invitata nei ristoranti o club affinché li promuova. Mike dunque è felicissima sta realizzando il suo sogno. Tuttavia presto il suo percorso viene intralciato e la ragione è collegata a sua madre Ansreen. Vi parlo di lei. Ansreen Bukhari nasce in Pakistan il 15 novembre 1976 ma si trasferisce nel Regno Unito quando è ancora una bambina e cresce a TikTok come la figlia. Ansreen descrive la sua infanzia come conservatrice. È la più giovane della famiglia e viene allevata principalmente dai suoi tre fratelli maggiori ma anche una sorella. In ogni caso Ansreen non prova mai la sensazione di avere voce in capitolo in qualsiasi aspetto della sua vita. Non sperimenta mai la vera libertà perché i suoi genitori hanno già pianificato il suo futuro ben prima della sua nascita. I suoi genitori hanno un'idea netta e rigida dell'accudimento e sull'avvenire di Ansreen. La ragazza sogna di fare la hostess di volo, vuole intraprendere questa carriera ma i genitori glielo impediscono. Altri sogni si infrangono quando non le permettono di iscriversi al college o all'università e nemmeno di indossare i vestiti che le piacciono, di frequentare gli amici fuori dall'ambiente casalingo e di avere un fidanzato. In pratica non le permettono di fare nulla. Per celebrare le nozze della sorella di Ansreen tutta la famiglia si ristabilisce in Pakistan. Durante l'evento Ansreen viene presentata a un amico di famiglia di nome Ali che è quasi coetaneo della ragazza. Quando Ansreen compie 19 anni Ali le fa la proposta di matrimonio. Un paio di anni dopo si sposano e poi la coppia si trasferisce dapprima nel Regno Unito e in seguito emigra negli Stati Uniti. In America Ansreen rimane incinta di Mike e la partorisce, ma dopo un po' tutta la famiglia si ritrasferisce di nuovo in Pakistan. Resta lì per due anni, i coniugi mettono al mondo anche un altro figlio, Arman, e infine decidono di tornare nel Regno Unito per stabilirsi definitivamente a Stoke. Qui Ali trova un lavoro nel settore della sicurezza, mentre Ansreen in una farmacia. Torniamo a questo punto nel 2019, come vi ho già detto i social media di Mike, specialmente il profilo TikTok, sta decollando. Tuttavia lei non è pienamente soddisfatta, in questo campo è necessario essere ambiziosi, quindi Mike riflette su come poter diventare ancora più famosa. Come può accrescere il suo seguito ulteriormente e velocemente? Mike reputa che sia una buona idea includere sua madre Ansreen in qualche video da postare. cerca di replicare il successo di altri TikToker popolari che hanno presentato al pubblico i loro genitori. La ragazza pensa, posso farlo anche io? E convince sua madre a posizionarsi davanti alla fotocamera del telefono per cimentarsi insieme a lei in balletti o sfide. C'è da dire che Mike all'inizio è molto titubante rispetto alla scelta presa, ma quel tempo si gode l'attenzione che sta riuscendo a calamitare. I commenti degli utenti di TikTok sono molto positivi e sembra che Ansreen stia vivendo una seconda giovinezza. Le piace tantissimo leggerli tutti. Sua figlia nei video pubblicati si mostra mentre sfoggia diversi outfit e Ansreen adora suscitare tutto questo gradimento. Mike racconta che lei e sua madre sono molto legate, che loro non è un semplice rapporto madre-figlia perché sono anche migliori amiche. La popolarità della ragazza continua a crescere, quindi viene invitata a una moltitudine di eventi e ora ad accompagnarla c'è sempre sua mamma Ansreen. Adesso madre e figlia viaggiano insieme per tutto il Regno Unito, vanno a Londra, a Newcastle, a Manchester, a Bradford, sponsorizzano ristoranti e club sui social e in cambio ottengono pasti e bevande gratuiti. Il tempo passa e Mike diventa sempre più conosciuta, così viene retribuita per promuovere i locali. Non riceve più unicamente degli omaggi. Sottolineo che non c'è niente di disonesto in questa politica, fa parte delle dinamiche del mondo del web. Se hai un nutrito pubblico diventi un valido canale per la pubblicità, come avviene in televisione. Il problema è che tutta questa fama dà un po' alla testa a Mike. Inizia a diventare egocentrica. Sia lei che sua madre Ansreen si stanno facendo trasportare un po' troppo dalla piattaforma, da questo stile di vita tipico dell'influencer. Stanno vivendo il sogno di molti, fanno tante esperienze gratuitamente dato che Mike viene invitata a tutti questi eventi. Dunque Ansreen che ha 42 anni in questo periodo esce con le amiche della figlia, che sono delle ventenni o poco più. Ansreen sta davvero vivendo una seconda giovinezza, anzi, la vive per la prima volta perché sente di non averla mai avuta una giovinezza, dato che la sua famiglia tendeva a soffocarla. In pratica si riappropria di una parte di vita che si era persa. Tuttavia, col tempo Ansreen matura una certa insoddisfazione. La vita matrimoniale l'annoia, ama ancora suo marito, o almeno questo è ciò che afferma, ma sente di volere di più. Desidera sperimentare continue novità e, quando parte con sua figlia per partecipare agli eventi, talvolta sta via per un intero fine settimana, quindi Ansreen si allontana da suo marito Ali. La donna sta incontrando un sacco di gente nuova e sta ricevendo molta attenzione dagli uomini. In particolare ne incontra uno a un evento in discoteca, dove lei e la figlia sono state invitate. Ansreen e lo sconosciuto iniziano a parlare, si trovano molto bene insieme e durante la serata flirtano, ridono e scherzano. Una battuta tira l'altra. Ansreen e l'uomo misterioso si scambiano i numeri di telefono e, alla fine, iniziano addirittura una relazione. L'identità dell'uomo non è nota, ma è più giovane di lei. A circa 30 anni, anche lui è sposato e ha due figli. Ma nessuno dei due componenti della coppia se ne preoccupa. Infatti si incontrano regolarmente e condividono anche dei rapporti intimi. La storia si protrae per un paio di mesi e in segreto, nemmeno Mike sa che sua madre sta tradendo il marito. Poi la passione tra i due amanti si esaurisce e la relazione volge al termine senza che nessuno ne venga a conoscenza. Tuttavia questa non è l'unica relazione extracognugale che Ansreen porterà avanti. A maggio del 2019, Ansreen e Mike si recano a Londra per far visita ad alcuni parenti, nello specifico a una nipote. Mike scarica un'applicazione sullo smartphone di sua madre chiamata Hazar. Simile a Omegle, quindi è un'app di video chat e live streaming che rende possibile trovare in modo casuale utenti provenienti da tutto il mondo e parlarci. Madre e figlia la usano a questo scopo. E così un giorno Ansreen, che sta usando l'applicazione da sola, si imbatte in un uomo di nome Sakib Hassan. I due cominciano a conversare tramite una videochiamata, chiacchierano, scherzano e poi si salutano. Ansreen è convinta che non sentirà mai più Sakib. Fondamentalmente è uno sconosciuto con cui ha parlato per un po' soltanto tramite un'app. Ma Ansreen non sa che ha lasciato il segno nella mente di Sakib, che si è innamorato di lei a prima vista, dunque vuole parlarle di nuovo. Sakib sa come cercarla, visto che Ansreen, durante la conversazione, gli ha raccontato che sua figlia Maek adora fare contenuti su TikTok. Sakib setaccia i social media e trova sia l'account di Maek che quello di sua madre Ansreen. Di conseguenza manda un messaggio su Instagram alla donna che gli ha rubato il cuore, scrivendole «Te ricordi di me?» Siccome Ansreen non ha memoria di lui, Sakib le rivela la sua identità. Ansreen è davvero sorpresa, si chiede come Sakib abbia fatto a rintracciarla, tuttavia non è inquietata dalla sua ostinazione, quindi decide di rispondergli. I due iniziano ad accettare, anche se al momento Ansreen non ha alcuna intenzione di avviare una relazione con Sakib. L'uomo le racconta che vive a Bembory, nella contea dell'Oxfordshire, in Inghilterra, che è single e che ha 27 anni, ma sta mentendo sull'età, perché ha soltanto 18 anni, è più giovane di entrambi i figli di Ansreen. I due cominciano con lo scambiarsi messaggi molto provocanti e allusivi e dentro poco tempo iniziano una relazione virtuale. Passano altri mesi, arriviamo quindi al 2020 e tutti sappiamo bene cos'è successo. L'emergenza sanitaria sconvolge tutto il mondo. È questo il periodo in cui TikTok esplode e nel maggio del 2020 i contenuti di Mike ottengono tantissime visualizzazioni. Mike allora si impegna ulteriormente, cerca di fare sempre meglio e raggiunge i 160.000 follower. È felicissima di questo risultato e non riesce a credere che stia succedendo proprio a lei. Mike, per tenere sempre aggiornati i suoi fan, pubblica molti più contenuti durante il giorno, ma nota che anche altri TikToker stanno riscuotendo parecchio successo. Loro sì che sono ricchi, hanno milioni di follower. Anche Mike vuole essere come loro. L'unico modo per ottenere maggiore visibilità è postare sempre più contenuti, seguendo i trend per tentare di andare virale. Mike in questo periodo decide anche di abbandonare l'università per concentrarsi al 100% sulla sua carriera, sui social media. Mike è focalizzata su questo obiettivo ed è convinta che diventerà molto famosa e ricca. Intanto, durante il lockdown, Ansrin porta avanti la sua relazione virtuale con Sakib. Nell'agosto del 2020, quando le restrizioni del lockdown diventano meno rigide, Sakib e Ansrin decidono di vedersi di persona per la prima volta, in occasione del compleanno di lui. La coppia si incontra a Birmingham e si reca in un hotel per avere un rapporto intimo. Durante questa giornata, Sakib inonda Ansrin di amore e di affetto, le dice che è innamorato di lei. Sakib e Ansrin si scattano anche delle foto mentre sono insieme, si abbracciano e si baciano sulla guancia. Restano nella camera d'albergo per un paio d'ore e poi Ansrin si offre di riaccompagnare Sakib a casa, a Ranbury, che dista circa un'ora da Birmingham. Infine, la donna fa un viaggio di due ore per tornare a casa propria, a Stoke. Quando rientra, Ansrin inizia a sentirsi incredibilmente in colpa per quello che ha fatto. Si vergogna moltissimo, è in imbarazzo in famiglia. Di conseguenza pone fine alla relazione con Sakib. C'è però un problema. Lui non accetta che la loro storia finisca così e inizia a chiamarla circa dieci volte al giorno. Le dice costantemente che la ama, che vuole incontrarla di nuovo, che non sa cosa farebbe senza di lei. Ansrin gli ribadisce che non vuole più vederlo, ma Sakib non l'ascolta. Ignora il rifiuto. Si ripete che, se insisterà abbastanza, alla fine riuscirà a convincerla a stare con lui. Le telefonate di Sakib si intensificano, spedisce regali costose ad Ansrin tramite posta come gioielli, orologi, profumi, fiori e vestiti. Lei però è sempre più nervosa riguardo a questa faccenda, visto che il suo marito e i suoi figli potrebbero insospettirsi. La piccola avventura che Ansrin ha avuto con Sakib rischia di venire a galla. Così lei lo supplica di smetterla di inviarle regali. Ma, di nuovo, lui non l'ascolta. Continua a mandarle doni costosi e a implorarla di incontrarlo ancora. Le dice che non la lascerà in pace finché lei non accetterà di rivederlo. Così, alla fine, Ansrin cede. Spera che questo sia l'ultimo incontro che avviene a Londra, dove Sakib si presenta con un altro regalo. E che regalo! Le ha comprato un Apple Watch. Sakib implora Ansrin di lasciare il marito per iniziare una relazione seria con lui. Ma Ansrin gli dice di no. Non intende rivederlo e nemmeno parlargli ancora. Insomma, non vuole avere più nulla a che fare con lui. Sakib però non ha alcuna intenzione di arrendersi e continua a perseguitare Ansrin con proposte di ulteriori incontri e spedendole altri regali a casa. Siccome a questo punto Ansrin lo ignora, allora Sakib decide di farle una visita sorpresa. Durante un evento per influencer a cui Mike e la madre Ansrin partecipano insieme, Sakib si presenta con i suoi amici. Sapeva di trovarli lì perché Mike lo aveva preannunciato sui suoi profili social. Sakib si avvicina con i suoi amici al tavolo di Mike e inizia a parlarle tutto davanti ad Ansrin. Mike non ha la minima idea di chi sia questo ragazzo mentre Ansrin è seduta al tavolo in preda al panico. Crede che da un momento all'altro la loro storia clandestina sarà smascherata. Sakib prova a flirtare con Ansrin e si intrattiene al loro tavolo per più di un'ora senza mai essere stato invitato. Poi lui e i suoi amici si alzano. Sakib va a pagare il conto complessivo del tavolo e infine il gruppo va via. Questa situazione ha effettivamente lasciato Ansrin sotto shock. Lei inizia a pensare che non riuscirà mai a liberarsi di quest'uomo e in effetti le molestie di Sakib non si fermano piuttosto diventano ancora più insistenti. Ansrin ripete fino allo sfidimento a Sakib che non vuole avere una relazione con lui. Continua a dirgli di lasciarla in pace. Lui allora la minaccia. Le dice che se lei non avesse accettato di diventare la sua fidanzata avrebbe inviato a suo marito le foto che avevano scattato quel pomeriggio in hotel rivelando così il suo tradimento. Sottolineo che le foto a cui si riferisce Sakib non sono a sfondo intimo. Infatti raffigurano entrambi completamente vestiti tuttavia risulterebbero alquanto discutibili visto che Ansrin e Sakib si abbracciano e si danno dei baci sulla guancia. Ansrin non vuole di certo che queste foto vengano scoperte non vuole che il suo matrimonio fallisca e nemmeno che la carriera di sua figlia vada alla deriva. Mike ha ottenuto un seguito enorme su TikTok e su altre piattaforme social ma un simile scandalo le nuocerebbe indubbiamente. La ragazza non ha fatto altro che postare contenuti insieme a sua mamma descrivendo la propria famiglia come perfetta e Sakib intende utilizzare questa situazione a suo vantaggio perché sa bene che Ansrin è in trappola così la ricatta se Ansrin non farà delle video chat con lui invierà quelle foto a suo marito. Ansrin sente di non avere altra scelta e è disposta a fare qualsiasi cosa per assicurarsi che Sakib non mostri nulla ad Ali. Durante queste video chat Sakib chiede ad Ansrin di togliersi i vestiti ricordandole sempre in cosa consiste la sua minaccia. Allora lei lo asseconda malvolentieri. E a questo punto secondo voi cosa fa Sakib? Ebbene sì registra lo schermo e ottiene nuove prove dell'infedeltà di Ansrin quindi rafforza il proprio potere su di lei. Sakib la ricatta ulteriormente e le chiede di incontrarlo a Londra e di nuovo Ansrin accetta. Si vedono in un hotel e hanno un rapporto intimo per la seconda volta anche se a mio avviso si tratta di sottominaccia Sakib si approfitta del corpo di Ansrin e onestamente lo trovo disgustoso. Le cose vanno avanti in questo modo per davvero molto tempo. È il 2021 quindi sono passati ben due anni da quando i due si sono conosciuti. A questo punto Sakib decide di intromettersi anche nella vita della figlia di Ansrin che gestisce un account TikTok davvero popolare. Sakib infatti avvia un'attività online forse illegittima se non del tutto fake e contatta Mike. Le offre 500 sterline in cambio della promozione del suo business e Mike che non ha idea di chi sia Sakib stipula l'accordo. La ragazza ignora di accettare dei soldi da parte dell'uomo che sta ricattando sua madre da anni. Ma non è finita qui perché Sakib prova a seminare e zizzagna lasciando dei commenti sotto i video di Mike scrivendole tua madre ha una relazione con un altro uomo. Tuttavia la ragazza è convinta che a commentare sia un troll. Dovete sapere che nel gergo di internet un troll è un utente che interagisce con gli altri tramite messaggi volutamente provocatori irritanti fuori tema o semplicemente senza senso. Il suo unico obiettivo è disturbare la comunicazione e causare nervosismo. Hansrin però sa che l'autore di questi commenti è Sakib sa che lui sta dicendo la verità ed è profondamente mortificata stressata terrorizzata teme che tutti stiano per scoprire la sua relazione extraconiugale per quanto non possa definirsi consensuale. Mike però è distratta anche da altri commenti del resto internet è un territorio dove proliferano gli haters sempre pronti a scrivere cattiveri e falsità. Allora Sakib riprova ad attaccare Mike scarica delle immagini piccanti di una donna ritaglia la testa di Mike da una foto e la riadatta sul corpo della ragazza provocante dopodiché diffonde l'immagine ritoccata su TikTok a questo punto Hansrin comprende che Sakib proprio non vuole fermarsi non serve ignorarlo con la speranza che prima o poi si stufi e sposti altrove la sua attenzione infatti Sakib fa di peggio invia a Mike le foto e i video espliciti di Hansrin che si è procurato durante le video chat la ragazza ne rimane inorridita e il suo primo pensiero è che quel materiale sia falso così lo mostra sua madre Hansrin a primo impatto nega tutto ma poi crolla dopo tutte le angherie subite negli ultimi due anni non ce la fa più a trattenersi e a mentire ancora scoppia in lacrime e racconta la verità a sua figlia le spiega chi è questo Sakib e cos'è successo negli ultimi due anni Mike ovviamente è ferita si arrabbia con sua madre si chiede come abbia potuto tradire così il suo padre ma poi pensa anche a come abbia usato Sakib rovinare la loro famiglia allora Mike mette da parte il suo dolore il suo turbamento e la collera nei confronti della madre per indirizzarla verso Sakib è lui con i suoi ricatti la sua ossessione a rappresentare una minaccia sia per la sua famiglia che per la sua carriera sui social media questo conclude Mike così la ragazza contatta Sakib e gli scrive come hai potuto fare questo a mia madre che cosa vuoi perché non la lasci in pace lei non ti vuole in risposta Sakib prende a molestare Mike tramite il suo account tiktok crea numerosi account falsi e le manda tanti messaggi privati di odio le lascia pure un sacco di commenti disgustosi ogni volta che la ragazza lo blocca Sakib riappare con altri 5 account fake tutti gestiti da lui Sakib chiede a Mike di restituirgli le 500 sterline che aveva pagato per promuovere il suo business online ora il ricattatore è davvero arrabbiato telefona a casa della famiglia Bokari e appena qualcuno risponde urla ogni sorta di insulto contro Hansrin lei è molto spaventata perché teme che un giorno possa essere suo marito a rispondere a una di quelle chiamate offensive l'unico obiettivo di Sakib è distruggere il matrimonio di Hansrin forse ormai neanche gli interessa più di stare insieme a lei ma vuole comunque rovinarle la vita Hansrin si confide e piange con Mike ogni giorno e al limite non sa proprio più cosa fare sente nuovamente di non avere altra scelta quindi manda un messaggio a Sakib in cui gli scrive cosa vuoi che faccia? farò qualsiasi cosa ma per favore lasciami in pace cosa devo fare perché tu vada via? Sakib le risponde se mi dai 3000 sterline ti lascerò in pace non mi sentirai mai più con tutti i soldi che ho speso per te come hai potuto ti amo così tanto ma quando riavrò i miei soldi me ne andrò per sempre oppure potrei mandare un messaggio a tuo marito subito dopo Sakib invia ad Hansrin tutte le foto che ha di lei per ricordarle che ha diverse prove della loro relazione tra cui una fotografia in cui Hansrin è nuda quindi può rovinarle il matrimonio da un momento all'altro inoltre lei dice che non riceverà i suoi soldi indietro condividerà queste immagini sui social e di certo andranno virali in un altro messaggio Sakib scrive ad Hansrin non puoi farmi questo sei il mio primo amore tutta la mia vita è incasinata ti ho parlato ogni giorno per tre anni e ti amo da morire sto perdendo la testa e scacciarmi sta peggiorando le cose dobbiamo parlare prima che sia troppo tardi in un altro messaggio ancora le scrive smettila di costringermi a fare qualcosa di stupido posso distruggere il tuo matrimonio e dividere la tua famiglia tutta la mia vita è incasinata in questo momento non puoi immaginare quanto voglia uccidermi i giorni passano e Mike e Hansrin sono sempre più spaventate perché i messaggi di Sakib generano in loro una preoccupazione crescente non sanno di cosa lui sia capace ritengono che possa essere violento nei confronti della loro famiglia tutte queste minacce sono davvero allarmanti eppure se pensate che Hansrin sia l'unica donna che Sakib sta ricattando vi sbagliate di grosso infatti all'inizio del 2022 Sakib ha iniziato a minacciare e molestare un'altra donna secondo un rapporto della polizia lei ha incontrato Sakib durante una serata e da quel momento lui non la lascia in pace la tormenta costantemente nel tentativo di ottenere il suo numero di telefono non importa quante volte lei gli ripeta che non è interessata a lui e che ha già un ragazzo Sakib non molla e alla fine lei avvilita gli dà il suo numero di cellulare Sakib le manda continui messaggi e lei continua a ripetergli che ha un fidanzato e non è interessata a lui ma Sakib passa le minacce e le ripete che le avrebbe distrutto la macchina la chiama dalle 15 alle 20 volte al giorno dicendole che deve stare attenta e sperare di non incontrarlo durante una serata questa donna è così spaventata da rivolgersi giustamente alla polizia e denunciarlo ma purtroppo la polizia non è di grande aiuto in questa situazione infatti non prende provvedimenti a riguardo i giorni passano anche Mike e Hansrin sono sempre più spaventate e cercano di escogitare un piano per porre fine ai sopprusi di Sakib vogliono assicurarsi che le immagini esplicite in suo possesso spariscano definitivamente arriviamo al 4 gennaio del 2022 sono passate solo poche settimane da quando Mike ha scoperto la relazione tra sua madre e Sakib Mike decide di prendere in mano la situazione e manda un messaggio a sua madre su whatsapp scrivendole presto lo farò aggredire dai ragazzi non saprà quando avverrà e non saprà chi è stato Mike quindi va da un suo caro amico di nome Recan Carwan un meccanico di 28 anni e gli spiega cosa sta succedendo lei e sua madre vengono molestate quotidianamente da un uomo e hanno bisogno del suo aiuto per farlo tacere così Mike e Recan definiscono il piano per fermare definitivamente Sakib lo attireranno nel parcheggio di un supermercato della catena Tesco con la promessa che Mike e Hansrin gli consegneranno le 3000 sterline da lui richieste ovviamente a patto che Sakib elimini le foto di Hansrin servendosi di questa scusa Recan e altri complici interverranno e lo picchieranno gli ruberanno il telefono cancelleranno le foto e poi scapperanno via Recan ha reclutato il suo miglior amico 22enne Raiz Jamal che porterà con sé la sua fidanzata Natasha Akhtar poi sul cugino 27enne Amir Jamal recluterà altri due amici Sanaf Gula Mustafa e Mohamed Patel quindi ben otto persone sono coinvolte in questo piano comprese Mike e Hansrin anche se madre e figlia non sanno chi siano gli altri complici e quanti siano intanto in questo stesso periodo Mike pubblica su TikTok dei contenuti ambigui posta dei video in cui sincronizza il labiale con un audio relativo all'uccisione di un uomo nello specifico tratto dalla serie tv The Vampire Diaries spesso i dialoghi recuperati da film o serie tv vengono riproposti come suoni da utilizzare sulla piattaforma di TikTok in modo decontestualizzato quasi sempre ironico questi contenuti vengono scelti da tantissimi utenti proprio per andare virali quindi non vanno presi troppo sul serio ma non nel caso di Mike che col senno di poi ha postato qualcosa di decisamente preoccupante arriviamo al 10 febbraio del 2022 il giorno in cui l'intero gruppo mette in atto l'aggressione a Sakib Mike gli scrive che hanno le sue 3000 sterline e se le rivuole devono incontrarsi quella notte al parcheggio di Tesco che si trova a Leicester Sakib accetta la proposta e si accorda con un suo carissimo amico Hashim Ijezuddin per avere un passaggio Hashim che ha 21 anni decide di accompagnarlo ben volentieri è un bravo ragazzo che non negherebbe mai un favore a un amico tra l'altro Sakib non gli dice che deve recuperare 3000 sterline da due donne che sta molestando quindi in serata Sakib e Hashim si dirigono verso Leicester e arrivano al parcheggio intorno a luna di notte Hansrin Mike e tutti i loro amici sono già lì ad aspettarli si sono divisi in due macchine in un Audi TT nera che è un'auto di cortesia intestata a Mike la ragazza siede accanto a Mohammed sul sedile posteriore al posto di guida c'è l'amico Recan con vicino la madre Hansrin sul lato del passeggero l'altra macchina è una Seat Blue che appartiene a Natasha la quale è seduta lì dentro con Sanaf Amir e Raiz accomodato al posto di guida siccome è notte nel parcheggio non c'è nessun altro nel gruppo tutti indossano un passamontagna e sono armati ad esempio hanno con sé cacciaviti e ferri da stiro le riprese delle telecamere a circuito chiuso mostrano che a lunediciassette dell'undici febbraio una Skoda argentata entra nel parcheggio di Tesco a bordo c'è Hashim che sta guidando la macchina del suo amico Sakib accomodato sul sedile del passeggero Sakib individua l'Audi TT si avvicina rimanendo in auto ma si accorge che in quella macchina ci sono delle persone con indosso dei passamontagna subito dopo nota l'altra macchina presente nel parcheggio la Seat Blue con a bordo altri passeggeri con il volto coperto dai passamontagna neri Sakib intuisce che qualcosa non va quindi dice ad Hashim andiamocene di qui guida usciamo da questo parcheggio ora mi preme dire che sono molto dispiaciuta per Hashim lui in tutta questa storia non c'entra nulla è completamente all'oscuro della situazione si fida dell'amico quindi rimette in moto la macchina e guida il più velecemente possibile fuori dal parcheggio Maek seduta nell'Audi Tittinera si dispera e dice oh no non abbiamo previsto questa eventualità e ora che facciamo così ordina Arekan che è al posto di guida di inseguire Sakib e spingerlo fuori strada e lui la seconda appena l'Audi Ttt lascia il parcheggio la Seat Blue la segue tra l'altro Arekan e Raiz che sono i due conducenti delle auto non potrebbero guidare perché a entrambi è stata sequestrata la patente ciò nonostante inizia un vero inseguimento in macchina che in alcuni tratti è addirittura ripreso da una telecamera a circuito chiuso potete vedere che davanti c'è la Skoda con a bordo Hashim e Sakib e subito dopo l'Audi Ttt e la Seat i membri del gruppo presenti nell'Audi telefonano a quelli a bordo della Seat e discutono su cosa fare dobbiamo prendere Sakib fermarlo e in qualche modo buttarlo fuori strada questa è la loro conclusione e in effetti provano a concretizzarla le telecamere a circuito chiuso riprendono la Seat Blue che supera la Skoda Argento e l'Audi Ttti Nera che le sta subito dietro la Seat Blue si ferma di colpo per cercare di bloccare il passaggio all'auto in cui c'è Sakib ma l'operazione non riesce Maek sempre seduta sul sedile posteriore dell'Audi Ttti Nera a questo punto è davvero frustrata e nervosa durante la chiamata ancora in corso con i complici nella Seat urla più volte fermateli fermateli dobbiamo fermarli Maek è talmente arrabbiata da non riuscire a ragionare al punto che chiama lei stessa Sakib il quale risponde alla telefonata la ragazza gli dice accosta accosta e guarda cosa ti faccio Sakib risponde che non accosterà perché sa che lei gli vuole fare del male quindi chiude la chiamata e l'inseguimento va sempre più fuori controllo tutte e tre le macchine stanno viaggiando a circa 160 km orari e stanno guidando su strade secondarie non in autostrada 40 secondi dopo Sakib fa una chiamata al 999 la registrazione di questa telefonata non è mai stata resa nota al pubblico ma ho letto la trascrizione che ora vi riporto Sakib dice aiutatemi aiutatemi sono inseguito da due veicoli l'operatore gli risponde come fai a sapere che ti stanno seguendo Sakib spiega in modo frenetico stanno cercando di bloccarmi l'operatore ribatte puoi andare in una stazione di polizia Sakib risponde no ho bisogno di aiuto in questo momento l'operatore purtroppo non prende abbastanza sul serio questa telefonata e quindi insiste e gli chiede perché non puoi andare a una stazione di polizia Sakib ripete quindi non posso ci sono dei ragazzi con dei passamontagna che mi seguono la telefonata va avanti così per un po' di tempo e già soltanto leggere la trascrizione per quanto mi riguarda trasmette frustrazione proprio perché l'operatore sembra disinteressato forse è convinto che si tratti di uno scherzo telefonico visto che episodi del genere si verificano spesso purtroppo tuttavia dovrebbe essere compito dei servizi di emergenza esaminare scrupolosamente ogni singola chiamata quando l'operatore chiede a Sakib quale sia la sua posizione lui non sa rispondere con precisione visto che non è di Lester prova a descrivere quello che ha intorno sottolineando che è in preda al panico che ha paura e non riesce a concentrarsi mentre viene inseguito da due auto in corsa l'Audi e la Seat sono sempre più vicini alla Skoda fino a che una delle due travolge a Ashim e Sakib Ashim prova a mantenere il controllo del veicolo intanto Sakib dice all'operatore stanno cercando di uccidermi sto per morire stanno cercando di mandarmi fuori strada l'operatore gli risponde rallenta mi stai dando troppe informazioni Sakib però insiste disperato mi stanno spingendo fuori strada aiuto l'operatore quindi risponde non verrai sbattuto fuori strada come detto leggere questa trascrizione mi ha innervosita molto perché non è così che dovrebbe comportarsi un operatore dei servizi di emergenza Sakib cerca di mantenere la calma ma non è affatto facile teme per la sua vita così ribadisce all'operatore stanno cercando di colpire il veicolo stanno sbattendo contro la fiancata per favore ho bisogno di aiuto sono in pericolo loro sono letteralmente dietro di me stanno colpendo il resto dell'auto molto velocemente per favore ti prego nel frattempo nell'audi e nella seat i due conducenti quindi rekan e raiz si stanno innervosendo sempre di più vogliono buttare fuori strada la skoda argentata con dentro Hashim e Sakib Mike dal sedile posteriore dell'audi incoraggia i guidatori a proseguire più veloce ripetendo speronateli fuori strada mi chiedo come sia possibile che nessuno dei complici in entrambi i veicoli pensi anche solo per un istante forse dovremmo fermarci basta perché nessuno si rende conto del pericolo che stanno correndo pare che non abbiano riguardo né per la propria vita né per quella degli altri Hansrin al contrario della figlia non dice una parola a questo punto la seat blue guidata da raiz è quasi attaccata alla skoda argentata allora raiz sempre nell'arco della telefonata dice penso di poterli eliminare posso farlo rekan alla guida dell'audi gli risponde ok vai avanti e speronalo mentre Hashim prova disperatamente a seminare gli inseguitori Sakib è ancora al telefono con l'operatore del 999 il quale finalmente gli dice che stanno arrivando i soccorsi ma è troppo tardi proprio in questo momento l'operatore sente l'assordante rumore di uno schianto tra macchine Sakib urla oh mio dio poi si avverte il suono di un'altra collisione violenta la linea telefonica si interrompe all'1.32 solo 15 minuti dopo che Hashim e Sakib sono entrati nel parcheggio del tesco questo è il momento in cui la seat blue guidata da raiz ha colpito il retro della skoda argentata che procedendo ad alta velocità è slittata lateralmente sulla carreggiata ha colpito il guardrail dopodiché balzata in aria è urtata contro uno sparti traffico e anche contro un albero appena dietro e alla fine ha preso fuoco così hanno tragicamente perso la vita Sakib e Hashim dopo l'omicidio l'audi TT nera e la seat blue continuano a guidare come se nulla fosse successo fanno inversione e tornano indietro superando la skoda in fiamme dopodiché le due macchine accostano a Lester e i passeggeri scendono e vi dirò di più il gruppo viene ripreso dalle telecamere a circuito chiuso mentre cammina per strada senza un'evidente preoccupazione i criminali discutono degli alibi da inventare per l'uno e per l'altro complice poi ognuno prende la propria strada non so davvero con tutta onestà come possano illudersi di farla franca considerate le numerose telecamere a circuito chiuso presenti lungo il tragitto intanto sulla scena del crimine ovvero dell'incidente automobilistico un passante nota la macchina in fiamme e chiama i servizi di emergenza i vigili del fuoco accorrono sul posto e scoprono che ci sono due cadaveri nell'auto che sta bruciando la skoda stava procedendo così veloce che volando in aria colpendo lo spartitraffico e poi l'albero e l'auto si è spezzata in due il motore era stato sbalzato fuori dall'automobile viene determinato che Sakibe e Hashim sono morti per l'impatto dell'incidente prima che la macchina prendesse fuoco anche la polizia arriva sul posto e indaga per stabilire cosa sia successo non occorre molto per individuare un collegamento con la chiamata al 999 che aveva fatto Sakibe prima di finire vittima dello schianto automobilistico gli agenti acquisiscono i video delle telecamere al circuito chiuso della zona e l'incidente si manifesta sotto il loro sguardo così rintracciano l'Audi TT nera un'auto di cortesia intestata a Mike e la Seat Blue di Natasha alle 8 del mattino dell'11 febbraio 2022 poco più di 6 ore dopo l'incidente la polizia individua Natasha in macchina la fa costare e l'arresta poco prima Natasha aveva avuto un sentore di ciò che le stava per succedere quindi aveva chiamato il suo fidanzato Rais per avvertirlo Rais di conseguenza aveva telefonato immediatamente a Mike ma la ragazza non aveva risposto perché stava dormendo anche la madre Hansrin come lei dopo aver determinato la morte di due giovani è andata a letto mi chiedo onestamente come siano riuscite a far assopire pure i sensi di colpa poco dopo l'arresto di Natasha la polizia arriva a casa di Mike e Hansrin il padre e il fratello di Mike aprono la porta e quando vedono la polizia sono alquanto confusi non sanno cosa diavolo stia succedendo a questo punto Mike si sveglia ma rimane al piano di sopra in preda al panico e chiama Rekan per chiedergli aiuto lui le suggerisce di dire alla polizia che era lei alla guida dell'Audi DT e non lui perché sarebbe risultato meno sospetto chiaramente Rekan sta solo cercando di salvarsi la pelle e di far incolpare Mike ma la ragazza sul momento non se ne rende conto e opta per raccontare questa versione di conseguenza Mike manda un messaggio alla mamma lì presente per aggiornarla deve dire che era sua figlia a guidare l'Audi pensate che tutte queste comunicazioni avvengono mentre la polizia è al piano di sotto infine Mike e Hansrin raggiungono gli agenti in soggiorno come mostra il filmato sono in pigiama perché si sono appena svegliate le due donne cercano di apparire confuse ignare dell'accaduto e dicono che hanno un alibi si trovavano a un evento per influencer a Nottingham la polizia però ha visto i filmati stradali sa già qual è la verità quindi intanto arresta Mike e la preleva per un interrogatorio in questo momento dunque la polizia ha due persone in custodia Mike e Natasha le presunte conducenti delle due macchine quando Mike viene interrogata alla stazione di polizia sottolinea che lei è un influencer è famosa sui social media insiste dicendo che per tutta la serata è stata con sua madre un evento per influencer a Nottingham poi sul tragitto di rientro verso Stock hanno scoperto che diverse strade erano chiuse e tra una deviazione e l'altra si sono perse a Leicester lì hanno assistito a un inseguimento in macchina tra una Seat Blue e una Skoda argentata Mike alla guida della sua Audi titti nera era completamente innocente in pratica sta cercando di incolpare tutti gli altri ma di salvare sia se stessa che la madre spiega che si è ritrovata travolta dall'inseguimento soltanto perché sia la Skoda che la Seat continuavano a cambiare corsia quando la polizia le chiede dell'incidente d'auto Mike dice di non averlo mai visto lei era in macchina con sua mamma la quale le ha semplicemente detto di continuare a guidare la polizia ovviamente non crede alla versione di Mike sa che la sua storia è tutta una bugia e continua a metterla sotto pressione nel tentativo di farla cedere gli agenti le rivelano che sanno chi è una delle vittime dell'incidente Saqib Hussein lui le stava rovinando la vita stava ricattando sua madre con dei messaggi espliciti Mike è sterrefatta cerca di difendersi ma la polizia ha già raggiunto il suo obiettivo scoprendo gran parte della storia gli investigatori hanno analizzato le conversazioni sui cellulari della madre e della figlia ricostruendo cosa era successo la polizia sa che c'era una relazione trans Reine e Saqib ha letto i messaggi minacciosi che lui le scriveva ma soprattutto ha scoperto che le due donne hanno pianificato l'agguato a Saqib Mike ha chiesto aiuto a Rekan poi quest'ultimo ha reclutato tutti gli altri presto rintracciati dalla polizia vengono arrestate tutte le otto persone coinvolte Mike Hansrin Reikan Raiz Natasha Amir Sanaf e Mohamed nell'aprile del 2023 inizia il processo e a questo punto gli otto imputati si rivoltano l'uno contro l'altro nessuno di loro risulta affidabile perché nessuno dice la verità stanno solo cercando di salvarsi la pelle il processo va avanti per mesi e durante tutto il dibattimento nessuno degli imputati esprime rimorso specialmente Mike la quale mostra sempre un sorrisetto che testimonia quanto non sta prendendo la situazione sul serio viene vista ridere scherzare e addirittura durante le pause giocare a uno e monopoli sul cellulare durante le varie udienze vengono presentate tantissime prove contro tutti gli otto imputati in particolare contro Mike e Hansrin l'intera vicenda emerge ed è assurdo pensare che Hansrin aveva secondato questa storia orribile soltanto per evitare che suo marito ne venisse a conoscenza ora non solo ha listato il tradimento di Hansrin con Sakib ma ha anche scoperto che sua moglie è un'assassina l'accusa ritiene che Mike e Hansrin sono le leader del gruppo il cui unico obiettivo era mettere a tacere Sakib per sempre vengono esaminati i contenuti postati sui social media di Mike e si evince che la ragazza ha davvero giocato un ruolo importante nell'epilogo del caso infatti anche se era stata Hansrin ad avere la relazione con una delle vittime poi Mike aveva elaborato il piano per mettere a tacere Sakib chiedendo aiuto a Re Khan quindi senza l'intervento di Mike forse il duplice omicidio non avrebbe avuto luogo in aula viene posta molta attenzione anche sui due conducenti quelli che materialmente hanno causato l'incidente ma poi si torna a evidenziare che Hansrin e Mike sono le maggiori bugiarde entrambe hanno mentito durante gli interrogatori con la polizia e mentono durante tutto il processo hanno cambiato la storia quindi nessuna delle due è attendibile emerge anche che quando Mike accusava Sakib di aver creato delle finte foto hot che la ritraevano per poi postarle quotidianamente su tiktok mentiva Sakib non aveva mai realizzato nessun fotoritocco non a caso un'approfondita indagine della polizia non ha mai recuperato le fotografie in questione il giudice ovviamente riconosce che anche Sakib non era del tutto innocente visto che aveva ricattato sia Hansrin che Mike quindi descrive la vittima come immatura e instabile il giudice però sostiene che anche Hansrin è bugiarda come la figlia dunque la sua versione dei fatti che coinvolgono Sakib non può essere considerata affidabile insomma questo è uno di quei casi in cui risulta davvero difficile scoprire la verità ma bisogna certamente riconoscere che Sakib aveva fatto delle cose ripugnanti aveva ricattato madre e figlia aveva ottenuto con l'inganno e con il ricatto delle foto esplicite di Hansrin e le aveva usate contro di lei inoltre chiedeva dei soldi che non gli aspettavano perché nulla lo aveva obbligato a comprare dei regali costosi per una donna che non lo ricambiava non erano doni richiesti da Hansrin è Sakib che aveva scelto di spendere un sacco di soldi per corteggiare una donna che gli aveva ripetuto fino allo sfinimento di non voler più avere nulla a che fare con lui poi oltre a minacciare Hansrin Sakib perseguitava e ricattava anche un'altra donna che però era andata in vano dalla polizia a denunciarlo tutto questo in tribunale è stato dimostrato ciò che non può essere dimostrato è che durante le videochiamate Sakib costringeva Hansrin a spogliarsi o che l'aveva obbligata ad avere un rapporto intimo con lui durante il loro secondo incontro in albergo non sapremo mai con certezza se sia andata proprio così oppure no la giuria si ritira per deliberare dopodiché ritiene Mike Hansrin Rekan e Rais colpevoli di omicidio in quanto le prime due sono le leader del gruppo mentre gli altri due avevano fatto da autisti Natasha Amir e Sanaf vengono dichiarati colpevoli ma di omicidio colposo perché indirettamente coinvolti nella morte di Sakib e Hashim pur non avendo in mente di assassinarlo erano presenti in quella macchina con le arnie al seguito e avevano indossato i passamontagna volevano indubbiamente partecipare all'agguato ai danni di Sakib infine c'è Mohammed di cui non esiste alcuna foto online perché è l'unico imputato che ha cooperato pienamente con la polizia per ricostruire tutta la vicenda era stato reclutato per ultimo e a quanto pare non sapeva esattamente quale fosse il piano bensì risulta che non volesse aggredire Sakib viene stabilito che non devono essere mosse accuse contro di lui quindi Mohammed è libero nel settembre del 2023 vengono annunciate le condanne Mike viene condannato all'ergastolo con un minimo di 31 anni e 8 mesi Hansrin viene condannato all'ergastolo con un minimo di 26 anni e 9 mesi Rekan Karwan viene condannato all'ergastolo con un minimo di 26 anni e 10 mesi Raiz Jamal viene condannato all'ergastolo con un minimo di 31 anni Natasha Akhtar viene condannata a 11 anni e 8 mesi. Amir Jamal viene condannato a 14 anni e 8 mesi. Infine c'è Sanaf Gula Mustafa che viene condannato a 14 anni e 8 mesi. Dopo la condanna si evidenzia che Maek e Ansrin sono la prima coppia di madre e figlia nella storia britannica condannate per dublice omicidio. Il giudice ha affermato Maek Bakari ti considero immatura al di sotto dei tuoi anni. La tua carriera di influencer ti ha resa completamente ossessionata da te stessa con un senso di diritto del tutto ingiustificato e nessuna apparente consapevolezza dell'impatto che hai sugli altri. Il caso di Maek e Ansrin Bakari è certamente controverso anche perché ha coinvolto tante persone. Sono onesta non mi spiego come si possa accettare di picchiare qualcuno senza neanche sapere chi sia. Madre e figlia non hanno promesso niente a nessuno. Mai. E questa è la cosa che mi lascia ancora più perplessa. Tutte le persone che hanno partecipato a questo omicidio non hanno ricevuto soldi, hanno deciso di partecipare di loro spontanea iniziativa senza avere nulla in cambio. Inoltre se Maek non avesse avuto tutto questo successo sui social forse non si sarebbe intromessa in tale modo nella relazione tra sua madre e Sakib. E di conseguenza se lei ne fosse rimasta fuori non ci sarebbe stato alcun inseguimento in macchina, quindi i due omicidi non sarebbero avvenuti. Ci sono così tante famiglie distrutte a causa di questa triste e assurda vicenda. La famiglia di Sakib rivela di sentire la sua mancanza ogni singolo giorno, ma vorrei ricordare soprattutto Hashim affinché non passi per la vittima dimenticata del caso di oggi. Hashim non aveva alcuna responsabilità legata allo svolgersi degli eventi. Neanche sapeva perché stava accompagnando il suo amico all'incontro. La sua famiglia ha affermato, Hashim era un giovane spontaneo che sorrideva sempre. Era bello sia dentro che fuori, avrebbe fatto qualsiasi cosa per chiunque. Era molto premuroso e aveva un cuore gentile. Hashim metteva sempre gli altri al primo posto e non avrebbe mai esitato ad aiutare chiunque ne avesse bisogno. Ci troviamo spesso, no? A riflettere su morti evitabili, senza senso e caratterizzate da un agire irresponsabile, privo di scrupoli. E di certo, questo caso, per quanto mi riguarda, non fa eccezione. Questo ci porta alla fine di questo video. Io sono molto molto curiosa di sapere le vostre opinioni. Ovviamente questo era un delitto tranquillamente evitabile, però poi mi viene in mente che l'altra donna che stava ricevendo molestie da Sakib ha provato a denunciarlo e nessuno ha agito, nessuno ha fatto nulla. Quindi, secondo me, qui bisognerebbe anche, insomma, che le forze dell'ordine si diano un attimino una svegliata e iniziano a prendere sul serio casi come questi. Però Mike e Hansrin non ci sono mai andate dalla polizia. Quindi sono profondamente intorto. Ciò non toglie che Sakib ha fatto delle cose che onestamente a me disgustano. Cioè, sono onesta, una persona del genere che si comporta in quel genere, che attua quel comportamento, a me crea ribrezzo. Profondo ribrezzo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo caso. Come al solito, come vi dico sempre, ci becchiamo qui sotto nei commenti e sono molto curiosa di sapere qual è la vostra opinione. Io nel frattempo vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto, prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti!